e quindi ho un'assistente è un'assistente ma siamo andati come lo sai, finché state appunto usate per arrivare la villa con la base non è... ma non è ancora un'acqua ma non è ancora un po' e non è solo un'acqua e non è iniziata no, ma è solo un'acqua e non è iniziata ma siamo tutti Grazie a tutti Grazie a tutti